Una giornata per celebrare l'unità nazionale, ma anche per consegnare le onorificenze al merito della Repubblica alle donne e agli uomini che si sono particolarmente distinti per i loro impegni professionali e sociali. Il sentimento non può che essere il ricordo di valori che sono attualissimi, di valori che noi dobbiamo trasmettere nel nostro quotidiano. Questo che io vorrei trasmettere non solo ai giovani, perché insistiamo sempre sui giovani ed è giusto, ma anche a noi adulti, quanti adulti non vivono ispirati da quello che è stato l'eroismo dei nostri antenati. A Frosinone le celebrazioni sono iniziate in Piazza della Libertà con l'alza bandiera, la benedizione della Corona di Alloro con un momento di preghiera e la lettura dei messaggi inviati dal Presidente della Repubblica e dal Capo di Stato Maggiore, letti dal Prefetto Emilia Zarrilli e dal Comandante del 72esimo Stormo, Colonnello Alfonso Alberino. Toccanti le parole del Vescovo Diocesano, Monsignor Ambrogio Sperafico, che ha ricordato l'importanza dell'unità nazionale, ma soprattutto il valore della pace, che da tanti anni continuiamo a gustare grazie al sacrificio di molti. Preghiamo per il sommo bene della pace, ha sottolineato il Vescovo Diocesano, perché non sia più interrotto dalla guerra. Ad intonare canti patriottici e l'inno di Mameli, i cori dell'Università della Terza Età, del gruppo polifonico Città di Frosinone, e i bambini dell'Istituto Comprensivo Frosinone III, che nel finale hanno lanciato in aria palloncini tricolori. In piazza anche la banda Romagnoli, che ha accompagnato l'intera cerimonia. Numerosi i cittadini che sono intervenuti alle celebrazioni del 4 novembre, a testimonianza di come lo spirito dell'unità nazionale sia un valore ancora riconosciuto da molti. La cerimonia è poi proseguita in piazzale Vittorio Veneto, con una esposizione a cura dell'aeronautica militare, e successivamente nella sala purificato del Palazzo del Governo, dove il prefetto Zarrilli ha consegnato 19 onorificenze al merito della Repubblica, ricordando l'impegno e il sacrificio di quanti hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Nominati commendatori Gerardo Antonio Appruzzese, Domenico Polselli e Aldo Simoni. Onorificenza di Cavaliere per Giovanni Antonio Abate, Massimo Aloi, Rolando Amata, Damiano Baris, Fabio De Filippis, Giuseppe Di Biase, Cesidio Di Girolamo, Gilberto Fasani, Raffaele Forgione, Claudio Notarelli, Maria Concetta Proia, Aurelio Spaziani, Alessandro Tanzilli, Giovanni Terenzi, Marco Zamperi e Francesco Zampieri. Innanzitutto mi preme ringraziare i suoi eccellenze il prefetto di Frosinone per aver determinato in questi ultimi tre anni nel popolo ciociaro un imperioso scatto di dignità e ancor più mi preme ringraziarla per aver determinato la concessione di una onorificenza così ambita che mi ripaga di tante sofferenze, di tanti sacrifici affrontati ma non subiti in oltre 50 anni di duro impegno politico e amministrativo. Il nostro conterraneo Marco Tullio Cicerone solenemente affermava all'orchia moniva il bene del popolo e legge suprema. Ecco perché dobbiamo oggi essere più partecipanti di interpreti coraggiosi degli avvenimenti che ci riguardano per l'affermazione delle regole cogenti della democrazia e del diritto ed ecco perché oggi dobbiamo osare di più. Giovanni Terenzi di Serrone, produttore di vini buonissimi premiati al Vinitaly, oggi diventa cavaliere della Repubblica, quale emozione per questa onorificenza? Forse è il gran merito che dal lavoro che ho svolto penso che me l'avrò meritato e per me è un onore molto alto, è come quanto che fai un presidente della Repubblica. È vero, grande tu.